Buona domenica della redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Segnalata nebbia in A1 tra incisa Reggello e Valdarno in entrambe le direzioni, moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza. Sempre in A1 tra Calenzano e il BVA1 variante Baccheraia in direzione Bologna, coda per incidente al chilometro 266 e 500. L'area di servizio magra in A12 in direzione nord presenta un guasto all'impianto GPL, servizio non disponibile. Provvedimenti di circolazione oggi dal primo pomeriggio in zona stadio a Firenze per manifestazione sportiva in programma alle 20.45, previsti di vieti di transito e di sosta. In piazza Puccini, disagi per materiale in carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!